Cleland Ranch, Beppe Tassara, Mara Ragni, alcune domande che abbiamo proposto diritto ad altri personaggi di questa competizione le proponiamo anche a Mara Ragni, anche se lei è una protagonista di una disciplina che si svolge in questa manifestazione che è il Three Girls Doctoring dove lei addirittura in America svolge competizioni. Mara cosa ne pensi del Roping Challenge? Secondo me è una manifestazione bellissima e credo che Chiara e anche te abbiate fatto veramente un bellissimo lavoro che abbiate avuto un'idea strepitosa nell'organizzare una manifestazione di questo tipo. Grazie, anche Mara è organizzatrice di un evento in estate che è il Three Magdoctoring che è un evento veramente importante dove tutti i cowboy d'Italia si radunano per darsi battaglia. Gli chiedo anche che cavallo monti, Mara? Io monto il mio fantastico Nanetto che è uno stallone di 13 anni, veramente molto gestibile che mi dà una mano comunque anche in queste competizioni dove magari comunque devo anche scendere però lui è insomma abbastanza docile. Bene, un'ultima domanda. In quale di queste discipline dell'edizione Roping ti senti più forte? Penso nel Three Girl, anche se non ho vinto. Bene, ok. Clayton Ranch, beh per questa sera Mara Ragni. Grazie.